... Mamma che stai vedendo? Ciao tesoro, stai vedendo un video su Gesù che vince le tentazioni nel deserto E come si vincono le tentazioni? Eh, non è facile Bisogna provare a privarsi di qualcosa a cui si tiene veramente Qualcosa che ti fa gola Questo ti renderà più forte anche nella vita Tu che dici? Come possiamo fare per questa quaresima? Di cose che ci possiamo privare? Del cellulare, ci vorremmo privare del cellulare Ma lo sai che ti dico? È proprio una buona idea Bravo Digiuno dal cellulare? Perché? I new media sono utili Anch'io li uso Ma riesci a stare senza per qualche ora? Riesci a spegnerlo? Riesci, mentre è spento, a non essere ossessionato da chi ti scriverà? In quaresima spegni internet per qualche ora E impiega quel tempo per qualcos'altro In questa quaresima iniziamo a digiunare Lasciamo un po' da parte il telefono e la televisione Facciamo silenzio e ascoltiamo quel che Gesù ci vuol dire Iniziamo a corritori con noi E troviamo il tempo per stare con la nostra famiglia E troviamo il tempo per stare con la nostra famiglia